Non dobbiamo commettere un errore, che non sia stata la Juve Stabia vista col crotone, perché noi abbiamo impressa la Juve Stabia col crotone e non possiamo pensare di poter fare sempre quelle partite. La squadra, quando io parlo dal punto di vista mentale e caratteriale, la squadra ha accusato tantissimo perché, ripeto, ci sono delle persone che non fanno questo solo perché sono pagate per fare questo, perché mettono anche dei sentimenti, mettono la determinazione, la voglia. Quando sai che non ha fatto una bella figura, a livello mentale la paghi. Noi abbiamo accusato parecchio questa partita, dal mio punto di vista, per il risultato di Cittadella. Poi metterci pure che dopo, non so quando abbiamo preso gol, il ventesimo, quando era, prendi gol da un cross, senza un tiro in porta, prendi gol. Tutto si mette già, già era in salita perché loro sono partiti per difendersi e ripartire. Quando poi vai sotto di un gol diventa ancora molto più complicato. E' pur vero che dopo, sul secondo gol, potevamo prendere il terzo gol. La verità è questa. Abbiamo mentalmente sbagliato qualcosa. Però guardo anche il lato positivo, il lato positivo che è una grande reazione per 30 minuti. C'è stata da parte della squadra, noi dobbiamo ripartire da quello. Non pensare perché durante un'annata ci sono dei momenti di appannamento, di flessione. A volte penso, soprattutto questa partita, forse è anche colpa mia, perché ho cercato di caricare troppo questa partita. Magari qualche elemento nel risente dal punto di vista mentale, la troppa pressione. Infatti chiedo pure scusa per questo, perché poi ieri ho cercato di coinvolgere, perché anche io sono uno che pretende tanto. E magari a volte non ci penso che può essere anche un momento dell'anno dove le difficoltà fisiche e mentali ci possono stare, dopo che ha speso tanto. Quindi da questo punto di vista molto probabilmente ho sbagliato a caricare troppo questa partita. Però ripeto, parto dal momento dei 30 minuti importanti che hanno fatto i ragazzi.